Piazza Vittoria senza pace. È vero, può sembrare una battuta che ci rimanda indietro di 13 anni al 2002 quando Bolzano si votò nel corso di un referendum per decidere dopo il cambio in Piazza della Pace se la storica piazza italiana Bolzanina per eccellenza dovesse tornare con il suo vero nome, Piazza della Vittoria. Piazza Vittoria vinse il ritorno al nome originale ma lo spauracchio del cambio di denominazione non è mai cessato. E quale momento migliore se non la campagna elettorale per ritirare fuori la questione? A farlo a meno di un mese dalla chiamata alle urne sono stati il Partito Democratico con Nadia Mazzardis candidata in Consiglio Comunale e che propone un referendum per dedicare ad Alexander Langer il selciato all'ombra del monumento. Non solo PD ma anche SVP con Luis Valcher, uomo di punta della Volkspartei alle prossime elezioni comunali nonché già presidente del Consiglio Comunale. Valcher propone, avendo presentato una mozione ufficiale, di cambiare il nome della piazza in Piazza dell'antifascismo. Il sindaco di Bolzano Luigi Spagnoli, interpellato dal quotidiano Corriere dell'Alto Adige, mette le mani avanti affermando che prima di riaffrontare il tema bisognerà attendere almeno un cambio di generazione, ovvero almeno 20 anni a partire dal 2002. Quindi se ne riparlerà nel 2022.